Qualche anno fa ho incontrato il dottor Volpe, il dottor Vicino, tutta l'equip di Venere che ha costruito un insieme di competenze che sono in grado di gestire dal concepimento alla nascita i casi più complessi di maternità a rischio. A quel tempo parliamo della necessità di investire in infrastrutture, in capitale umano per consentire una migliore diagnosi fetale che è ovviamente la base per poi fare quello che oggi viene presentato. Il primo intervento nel sud Italia è uno degli interventi più rari anche compreso tutta l'Italia di chirurgia fetale con riferimento a problemi legati alla circolazione sanguigna di parti gemellari. Questo intervento è stato realizzato con successo, i feti sono in buona salute, ovviamente il momento conclusivo di questa operazione sarà la nascita che ancora deve venire. Questa equip fatta di multidisciplinare che ha utilizzato attrezzature modernissime e di ultimissima generazione, che viene realizzata all'interno di un reparto che è stato completamente ristrutturato, è un successo straordinario. La Puglia quindi può presentare questo record di essere la prima regione del Mezzogiorno ad avere fatto un intervento di questo livello. Come d'altra parte, lo ribadisco perché mi sa che i pugliesi neanche lo sanno, siamo la prima regione italiana per la capacità di trapianti di cuore. Solo qualche anno fa eravamo sotto zero. Da un lato la cultura della donazione, dall'altro le capacità tecniche ci hanno consentito in molti settori di crescere moltissimo nei numeri, di avere un'organizzazione che ci consente di fare cose che un tempo venivano considerate impossibili.